Presentato a Roma il libro Paola Zanoni, un inno alla bellezza e all'amicizia, scritto da Mario Scaffiti Abate. Alla giornalista, da anni residente nel decimo municipio, è dedicato un libro che racconta la vivacità e la determinazione grazie alla quale è riuscita ad imporsi nel mondo della cultura e del giornalismo. Sicuramente questo libro racconta in versi soprattutto il carisma di Paola, il carisma è quello di mettere insieme tante energie diverse, di farne un evento e da questo evento trarre tante cose belle, spettacolo, solidarietà, conoscenza reciproca. Devo dire, è un libro straordinario, veramente un inno alla bellezza e all'amicizia. Veramente è una cosa impressionante, è molto difficile starle dietro perché in effetti è una specie di turbine e quindi realmente sono convinto che il libro non farà altro che raccontare un pochino più in dettaglio tutte le sue attività. Alla serata hanno partecipato molti dei suoi amici. Ho conosciuta tanti anni fa in occasione di una mostra curata di mio suocero, Fausto Pirandello, fece a suo tempo un'intervista a mio marito, quindi la conosco bene, è stata un'intervista. È un inno, come abbiamo visto, abbiamo letto il libro, è un inno non solo alla bellezza, ma io direi anche, come ha detto lei, all'autenticità della persona, al fatto di essere sincero e di rappresentare questo modo di espressione nella visibilità del proprio lavoro, della propria attività in un modo talmente però leggero e nello stesso tempo accattivante che rende tutto, diciamo, fruibile e nello stesso tempo, come dire, quasi una comunione di intenti e di sfumature di sensibilità.